Gli Aurea Secula A partire dal X secolo, le linee della ripresa monastica, delle rifondazioni come delle nuove fondazioni, si attuano prima lentamente, poi con moto sempre più rapidamente accelerato, secondo lo schema già collaudato. Re e grandi signori soprattutto, ma non manca l'iniziativa o l'appoggio di vescovi e di papi, puntano sui monasteri come centri religiosi di preghiera, aziende agricole, sedi di espansione e di rafforzamento politico sul territorio. Nel riprendere e proseguire per proprio conto l'opera di fondazione di monasteri, divenuta nel periodo carolingio prerogativa regale, i titolari dei grandi principati territoriali, che si costituiscono sulle rovine dell'antico impero, attestano l'altezza del loro rango e la potenza e l'autonomia ormai raggiunte. Ma la stessa complessa funzione delle fondazioni monastiche, in un contesto di autorità e di rapporti che si incrociano, si intersecano e si giustappongono, cercando nuovi spazi e nuovi strumenti di affermazione, suscita atteggiamenti e situazioni del tutto opposte, di signori, vescovi, milites, che attaccano, spogliano, dilapidano i monasteri e i loro beni. È un movimento pendolare, legato ai molti interessi che si concentrano attorno alle fondazioni e alla mancanza di solidi poteri centrali, provocando un costante riproporsi di tensioni e di conflitti che cronache e biografie monastiche illustrano con abbondanza di particolari per almeno due secoli. Ma la linea resta irresistibilmente ascendente, lungo un percorso non privo di contraddizioni, ma capace insieme di battere strade nuove rispetto al passato. Si fa luce la consapevolezza di un progressivo decadere della disciplina monastica provocato dalla subordinazione del monastero ai poteri e agli interessi che lo circondano. Sono quegli stessi poteri ed interessi che spesso lo fanno esistere, ma che non per questo risultano meno minacciosi per l'autonomia e la regolarità della sua vita. Da ciò, nel maturare di esigenze e di riforma, la spinta crescente ad affermare una superiorità originaria e costitutiva del monachesimo e correlativamente la richiesta di una piena autonomia del monastero dal contesto politico ed istituzionale in cui si trova inserito. Le due grandi istanze di riferimento della libertà monastica diventano così il potere regio o imperiale da una parte, ricollegandosi in questo alla tradizione carolingia e quello papale dall'altra. Si tratta di poteri, nel corso del X secolo, in una fase di profondo oscuramento e di intrinseca debolezza. Da questo punto di vista, il riferirsi privilegiato ad essi dei primi centri del monachesimo riformato non resta senza incidenza sulla loro progressiva ripresa. Le prime esplicite teorizzazioni della Chiesa, come unica grande diocesi di Roma, provengono da monaci cluniacensi. Ma tale monachesimo non si limita a questo. La necessità di difendersi dalle intrusioni e dalle ambizioni dei poteri locali provoca un movimento di concentrazione e di collegamento. I monasteri lentamente cessano di essere centri ciascuno a sé stante, sottoposti alla giurisdizione del rispettivo vescovo diocesano, e variamente soggetti alle sopraffazioni comitali e signorili, ecclesiastiche o laiche che fossero. Tendono a coalizzarsi intorno a un unico centro principale, articolandosi in grandi congregazioni che aspirano ad ottenere da Roma l'esenzione dalla giurisdizione dell'ordinario locale. Si crea così un moto centripeto. La congregazione attira nuovi monasteri. Il suo rafforzamento accentua l'attenzione e l'interesse collettivo nei suoi confronti. Le conferisce peso ulteriore nelle questioni e nelle vicende religiose e politiche. Clamoroso ed esemplare è il caso di Cluny, fondato nel 910 dall'abate Brunone, con l'appoggio del duca Guglielmo di Aquitania, che nello spazio di poco più di un secolo diverrà l'Ordo, l'Ecclesia Cluniacensis, raggruppando centinaia di monasteri in tutto l'Occidente, dall'Inghilterra all'Italia, e divenendo, tra l'XI e il XII secolo, la congregazione religiosa più importante ed autorevole della cristianità. Ma non fu un caso isolato. Da San Vittore di Marsiglia a Vallombrosa, da San Benigno di Digione a Irsau e a Gorze, da Camaldoli a Sitò, i grandi secoli dell'espansione monastica assistono ad un proliferare di solide congregazioni, raccolte intorno ad un unico centro maggiore, che dirama la sua influenza e impone le sue consuetudini fino a regioni lontane. Tale massiccia presenza incide nel profondo della società ecclesiastica e civile, non solo con i suoi modelli e con i suoi stili di comportamento, ma anche travasando in misura crescente una parte del personale monastico nei ranghi della gerarchia. Dei sei papi che si succedono nei cinquant'anni decisivi della lotta per la riforma, da Gregorio VII a Callisto II, solo l'ultimo non può vantare un'origine monastica. Episcopari Monacos Nostros Nec Novum Nec Admirabile Nobis Est rileva non senza alterezza Pietro il Venerabile, difendendo nel 1138 l'elezione di un monaco cluniacense al vescovado di Langres dalle critiche di Bernardo di Clairvaux. Ad essa fa riscontro un possente sforzo culturale, volto a riassumere e ad organizzare, secondo i propri schemi, tutto il complesso della vita associata. L'eredità patristica ed alto medievale viene riletta e riformulata in termini di egemonia monastica. Teologia, cosmologia, antropologia, morale e diritto si rimodellano a fondare e giustificare la preminenza dei monaci all'interno dei rigidi quadri sociali che suddividono e disciplinano la società. Ad un mondo nemico e da disprezzare, ad una storia irrazionalmente disposta in una sequela di violenze, miserie e catastrofi, si contrappone la cittadella monastica, sola realmente capace di dare un senso ed una prospettiva a quel mondo e a quella storia, perché unica piena risposta all'invito di Cristo, già proiettata alla realizzazione del compimento escatologico rappresentato dalla meta ultraterrena. Lo schema gerarchico dei tre ordines in cui si suddivide la società, gli uomini della preghiera, oratores, gli uomini della guerra, bellatores, gli uomini del lavoro dei campi, laboratores, proposto dalla cultura ecclesiastica di tradizione carolingia, viene rielaborato e riadattato in ambiente monastico, secondo una classificazione dei meriti che pone al vertice i monaci. Tra i cristiani dei due sessi sappiamo bene che esistono tre ordini, e per così dire tre livelli. Il primo è quello dei laici, il secondo quello dei chierici, il terzo quello dei monaci. Benché nessuno dei tre si esente dal peccato, il primo è buono, il secondo è migliore, il terzo è ottimo. Con riferimento alla parabola del seminatore e al diverso rendimento della semente di cui Cristo aveva parlato, Abbone di Fleury, Abate di Saint-Benoît-sur-Loire, alla fine del X secolo, enuncia così l'idea di una diversa e ben precisa remunerazione che attende nell'aldilà i cristiani, a seconda del loro stato di vita. Ai monaci spetterà cento, sessanta ai chierici, e trenta ai laici. Erano riflessioni e suddivisioni antiche e variamente applicate che trovano in questo periodo la cultura monastica unanimemente schierata nella proposta di tale scala di valori. Non si tratta soltanto di una profonda sottovalutazione delle realtà profane, di un reale depreciamento di ogni impegno che non abbia il chiostro come sua sede primaria e costitutiva, di uno schiacciante privilegiamento dello spirito sulla materia, dell'anima sul corpo e perciò di un giudizio tendenzialmente negativo verso ogni condizione umana che non abbia la castità o almeno il celibato come suo connotato primario. Non a caso, del resto, riflesso di atteggiamenti e scelte che rinviano alla psicologia del profondo, la donna, nelle biografie e nelle cronache monastiche, quando non è la madre amorosa e preveggente di un santo o non si è fatta monaca, è per lo più una figura subdola e feroce, preda costante dei sensi e di una scatenata emotività, destinata a corrompere gli uomini allettandoli con i piaceri della carne. Gli uomini, la società e la storia vengono analizzati e ripensati in esclusivo riferimento al loro destino celeste. La vita sulla terra viene riplasmata e riproposta secondo le articolazioni e sul modello rigidamente gerarchico che si immaginano propri del cielo. Ma l'abisso, tra cielo e terra, resterebbe incolmabile senza il preambolo di paradiso che il Cenobio offre all'esperienza storica degli uomini. A chi vi entra, per introdurlo fin da questa vita a gustare le dolcezze di quella futura, a chi ne resta fuori, per permettergli, grazie alla relazione concreta che egli può stabilire con quanti hanno avuto la grazia e il merito di aver compiuto la scelta monastica, di poter sperare, nonostante tutto, nella salvezza futura. Il monastero è il luogo privilegiato in cui vita terrena e vita beatifica si saldano quasi senza soluzione di continuità, assicurando ai suoi abitanti quel passaggio, altrimenti così periglioso ed incerto, ma è anche la sede in cui le preghiere di chi vi abita possono garantire aiuto e sostegno a quanti, pur vivendo nel mondo, hanno fatto qualcosa per meritarsele. I confini, in realtà, non sono così netti. Come in cerchi concentrici, intorno al monastero si raccolgono in condizioni a livelli diversi, quante in vario modo e misura hanno un rapporto o un legame con esso. Per la gente di umile condizione, opposta in difficoltà da troppo precarie situazioni di autonomia e sussistenza, quando non si limiti a richiedere più o meno saltuariamente assistenza o asilo, la strada è quella di darsi al monastero, spesso offrendo se stessi, la propria povera roba o la propria piccola terra, in cambio di protezione, aiuto e preghiere. Tale afflusso, in cui l'emergere più vistoso delle spinte materiali non può far dimenticare il complesso di attese e di immagini che collega vasti strati della società al chiostro, inciderà in qualche modo sulla stessa famiglia monastica, quando alcune congregazioni, Vallombrusana, cistercense, istituiranno la figura dei conversi. Con tale termine, ma usato di solito come aggettivo, si indicava originariamente il monaco divenuto tale in età adulta, un caso che sembra sempre meno frequente tra X e XI secolo, man mano che si accentua a un reclutamento monastico nobiliare, contrapposto al Nutritus, educato nel monastero fin dalla fanciullezza. Il nuovo istituto dei conversi designa invece i laici illetterati, accettati come monaci ma non ammessi nel coro, cui venivano richiesti i servizi più umili insieme ad assai più ridotte prestazioni culturali. Si tratta di figure che sostituiscono di fatto i servi del monastero della congregazione cluniacense, ma che corrispondono anche ad un reclutamento monastico più ampio e socialmente differenziato. La persistente ricerca di protezione e sicurezza nell'ambito del monastero si intreccia con una nuova domanda religiosa che investe vasti strati della società. È difficile stabilire la consistenza di fenomeni come quelli attestati da Bernaldo di Costanza alla fine del secolo XI, di famiglie ed interi villaggi che per il desiderio di più rigorosa vita religiosa si organizzano in fraternitates legate al mondo monastico. La novità di certe forme di organizzazione e di vita riassume ed esprime tendenze di fondo persistenti e diffuse. È un'area ampia e ambiguamente definita che ruota intorno ai monasteri e che si configura in termini e con caratteristiche più nette e precise solo man mano che si salgono i gradini sociali. Le forme e i modi in cui re e grandi signori possono stabilire uno stretto legame con il chiostro risultano estremamente chiari. L'uso da parte loro di indossare l'abito monastico all'approssimarsi della morte manifesta con tutta evidenza la ricerca di una duplice garanzia in ordine al proprio destino ultraterreno. Quella offerta dall'abito e dalla sepoltura monastica è quella derivante dalle preghiere dei monaci. A preoccupazioni simili risponde la pratica delle donazioni di rendite e di beni che raccomandano i donatori alle preghiere dei monaci. Onora i servi di Dio con le parole e con le opere. Venera e aiuta soprattutto per quanto potrai i monaci, ministri di questa chiesa, signori e fratelli nostri. Se ne avranno necessità, soccorrili del tuo aiuto e del tuo consiglio. Concedi loro di buon animo i beni che mio padre e Dio concedemmo loro per la nostra salvezza, che li posseggano in pace e tranquillità. Non cercare mai di diminuirli, né tollerare che ad opera dei tuoi sudditi sia fatta loro violenza. Se ti sforzerai di essere il loro fidato sostegno, essi senza tregua pregheranno Dio per te. Così, giunto ormai alle soglie della morte, il nobile, a un soldo, signore di Maule, dopo una vita avventurosa di viaggi e battaglie, raccomanda al figlio i monaci di Sentevrul, prima di indossare il loro abito e poter finire la sua vita insieme ad essi per conseguire in tal modo la promessa che Dio assicura ai suoi. È solo uno tra i tanti episodi analoghi raccolti con cura dal cronista cluniacense Oderico Vitale e che innumerevoli fonti diplomatiche e cronistiche ci attestano costume affermato e diffuso nella buona società del tempo. Il legame privilegiato e durevole di fraternità così stabilito trascorre senza interruzione dalla vita alla morte. Alfonso, re di Castiglia, ha beneficato abbondantemente la congregazione cluniacense Ut neminem regum vel principum sive priscis seum modernis temporibus ei comparare possimus. Imponente è la serie delle prestazioni monastiche che egli è riuscito così ad assicurarsi e sono prestazioni svolte contemporaneamente in suo favore ed in sua vece. La recita intera di un salmo Exaudiat Te Dominus allora terza alla messa maggiore la recita della colletta Quesumus Omnipotens Deus il giovedì santo trenta poveri saranno chiamati alla lavanda dei piedi pro eo mentre il giorno di Pasqua sono cento i poveri che sempre pro eo il camerarius avrà cura di sfamare. Ogni giorno inoltre gli deve essere riservato un pasto in refettorio quasi sinoviscum epulaturus sederet e con esso per la salvezza della sua anima tam in vita quam in morte verrà mantenuto un monaco. Nella chiesa dedicata a San Pietro e a San Paolo costruita con i suoi contributi gli viene concesso un altare dei più importanti dove una messa quotidiana impetrerà la sua salvezza eterna. tali prestazioni cui sarà resa partecipe anche la regina sua moglie andranno moltiplicate dopo la sua morte commesse di suffragio preghiere e corali molteplici refezioni ai poveri la concessione nel giorno del suo anniversario di un pranzo più abbondante ai monaci. Si tratta di un quadro certamente eccezionale che per la sua ampiezza trova pochi altri riscontri simili ma non è affatto eccezionale il tipo di legame di rapporto tra monaci e loro benefattori che tale quadro mette in luce prese singolarmente le opere compiute a favore o per conto di Alfonso vengono di volta in volta riproposte e ripetute per l'uno o per l'altro dei grandi e meno grandi signori laici che hanno beneficato favorito o protetto quel dato monastero libri vite libri memoriales necrologi obituari libri confraternitatum libri sepulcrorum attestano con larghezza questa associazione i benefici della preghiera e della carità monastica che coinvolge e lega tra loro i monaci dei diversi cenobi ed insieme i loro benefattori la vita interna del monastero e il suo ruolo assumono così rispetto alla società una dimensione eminentemente cultuale e di assistenza la parte riservata alla liturgia nella giornata monastica si dilata soprattutto nella congregazione cluniacense in modo particolarmente accentuato lo stesso reclutamento monastico che si attua ormai prevalentemente generalizzando un uso già instauratosi nell'alto medioevo con fanciulli in giovanissima età trova in tali funzioni la sua motivazione specificamente religiosa perché l'offerta a dio di un proprio figlio da parte dei genitori spesso compiuta unitamente ad un certo numero di sostanze per permetterne l'educazione e il mantenimento assicura loro in modo tutto speciale una presenza amica nel santo collegio dei monaci e perciò un veicolo privilegiato di preghiere e di suffragi le garanzie le garanzie per l'aldilà si saldano strettamente fanno un tutt'uno con i concreti vantaggi fruibili fin dal presente alle preghiere si accompagnano le competenze gli appoggi gli aiuti concreti che la potenza e la cultura dei monaci come il loro prestigio e la loro autorevolezza sono in grado di fornire ai loro benefattori Guglielmo di Normandia dopo la conquista dell'Inghilterra attinge alle comunità dei monasteri da lui fondati e beneficati per rinnovare l'episcopato del regno ma ricorre anche a personale monastico per organizzare una più sapiente e oculata amministrazione dei beni della corona il conte Teobaldo uno dei signori più potenti di Francia è noto a tutti per i grandi benefici da lui resi all'incipiente congregazione cistercense e per l'amicizia che lo lega a San Bernardo ma quando le armi del re si volgono contro di lui ed egli si trova in gravissime difficoltà non manca chi ironizza sulle sue passate larghezze inutili ad armare un esercito invece di cavalieri e balestrieri aveva monaci e conversi né quelle preghiere parevano servire un granché per poterlo salvare osservò sghignazzando un vescovo cui il realismo dell'arte di governo aveva evidentemente insinuato una vena di scetticismo Dio dovrebbe rendersi manifesto e imbracciare una clava e non risparmiare i colpi ma finora non ha fatto niente di tutto ciò nel racconto apologetico ed edificante della geografo San Bernardo risolve la situazione non soltanto con le preghiere ma con un intervento attivo che pacifica i contendenti e libera Teobaldo dal pericolo al di là di ogni pie enfatizzazione le tracce di suoi decisivi interventi nelle contese politiche sono troppo frequenti e troppo concordi le attestazioni perché possano essere minimizzate San Bernardo è indubbiamente una figura di eccezione ma tale ruolo di abati e monasteri si ripropone costantemente lungo l'arco di almeno due secoli non è certo un caso che sia Ugo il grande abate di Cluny a sedere a Canossa accanto a Gregorio VII come attivo protagonista della soluzione e riconciliazione di Enrico IV e che a lui il vecchio imperatore fuggiasco e perseguitato dal figlio si rivolga per ottenere conforto e sostegno sono fatti noti come è nota la funzione di consiglieri mediatori pacificatori di attivi anche se e defilati protagonisti delle grandi questioni del tempo di uomini come Romualdo come Guglielmo di Volpiano o Desiderio di Monte Cassino come Guglielmo di Irsau o Suggero di Saint Denis o Pietro il Venerabile grandi e campeggianti figure di un monachesimo che conta in realtà una miriade di attori talvolta solo apparentemente minori che si muovono nella stessa direzione e con gli stessi intendimenti sono un prestigio un'autorevolezza una forza di decisione che non si saprebbero comprendere appieno senza tener conto del fascino che quelle figure erano in grado di ispirare non credo si tratti soltanto dell'aureola di santità della fama di disinteressato rigore che le circondava l'impressione è di uno spessore di personalità di una sapienza di introspezione e di analisi di una capacità di distaccato realismo nella lettura dei moti dell'anima che rendono in qualche modo quei monaci superiori agli altri che attestano in loro verrebbe da dire la presenza di un impasto umano di un livello di maturazione assenti altrove non è un terreno agevole da percorrere e da indagare né ci si può limitare chiaro a riferirsi alla forte consapevolezza di sé che anima la cultura monastica la mancanza di una documentazione che non abbia in essa la sua origine complica indubbiamente la ricerca eppure molti indizi marginali sorreggono e suggeriscono tale impressione se si batte la pista offerta da quell'incontrastato dominio della parola che è loro esclusivo appannaggio sono tante piccole tessere forse in sé rilevanti ma che nell'insieme offrono un quadro eloquente di agilità mentale di sottigliezza di interpretazione di acutezza di ottica tali da configurare la statura reale del loro modo di essere e di operare è l'icastica dichiarazione con cui Hugo de Cluny sa giustificare se stesso di fronte al concilio di Reims del 1049 dai sospetti di aver brigato bassamente per ottenere la promozione all'abbaziato la carne certo la volle la mente e la ragione la respinse o la mordace ironia con cui suggero in pochi realistici tratti ritrae i membri dell'altezzosa ambasceria imperiale venuta in Francia a trattare con Pasquale II la corpulenza vociante del duca Guelfo lungo e largo in modo incredibile l'insinuante piacevolezza del vescovo di Treviri esperto nel parlare solenne e tutti così tumultuanti che sembravano mandati più ad incutere paura che a ragionare pacatamente è la dolente e disincantata consapevolezza con cui lo stesso suggero commenta gli atroci tradimenti che costellano i rapporti familiari della feudalità del suo tempo la rarità della fede fa sì che più sovente si renda male per bene piuttosto che bene per male questo è divino l'altro non è né divino né umano e tuttavia si fa è la sottile individuazione in una lettera di Pietro il Venerabile di quelle zone oscure dell'anima che restano incomunicabili anche agli amici più cari o l'equilibrata saggezza di Bruno il fondatore della Chartreuse che conosce l'importanza di una natura amena per riposare lo spirito stanco dalle meditazioni e dalle veglie la vigoria intellettuale e l'esuberanza emotiva vanno di pari passo con una sapienza di scrittura che sa esprimere e sfumare sensazioni scarti attenzioni sottili e segrete è un aspetto dell'universo monastico che meriterebbe di essere indagato sistematicamente perché componente essenziale tutto lo fa credere di quell'egemonia che esso seppe esercitare sui suoi contemporanei opera di mediazione di pacificazione e di orientamento dunque come caratteristiche fondamentali della presenza monastica in rapporto ai poteri del secolo quasi a cercare di tradurre anche al di fuori dell'isola claustrale quella realtà di pace e di comunanza fraterna e ordinata che resta uno dei suoi valori più tenacemente perseguiti ciò non vuol dire tuttavia che quei monaci e quei monasteri non siano schierati né che il loro coinvolgimento nelle vicende della storia resti limitato ad un ruolo di arbitri al di sopra delle parti la realtà monastica costituisce una presenza troppo corposa e articolata perché non diventi anche pedina importante e spesso decisiva nelle lotte per la ridistribuzione del potere così come la consapevolezza di sé e del significato esistenziale e simbolico del proprio stato è tra i monaci troppo alta perché non rivendichi il diritto del giudizio profetico e risolutore sulle azioni degli uomini le aggressioni e le manomissioni perpetrate a danno della vita e dei beni monastici da milites indisciplinati e in cerca di fortuna o da signori spregiudicati e ambiziosi sono immancabilmente giudicate dalla cultura monastica come frutto di cieca violenza e di diabolica malvagità l'esito più consueto di tali vicende comporta per il reo nelle cronache monastiche disgrazie e castighe ad opera di Dio o per mano degli uomini braccio armato in questo caso dalla giustizia divina pietra di paragone della religione dell'onestà e della giustizia altrui il monastero pretende di restare isolato e superiore rispetto all'intreccio e alla contrapposizione di interessi e di ambizioni che dividono e lacerano la caotica e fermentante società feudale di quei secoli ma resta in realtà pedina e strumento essenziale di strategie familiari come dell'organizzarsi di consorterie e di potentati come del formarsi e disporsi di gruppi e fronti variamente contrapposti nelle grandi lotte politiche e religiose del periodo assegnare la forza e il prestigio raggiunti ma anche tutti i condizionamenti che accompagnano e favoriscono la sua espansione e il suo sviluppo e pesano su di essi non basta tuttavia fermarsi a tali rilievi e a tali constatazioni per cercare di capire la posizione occupata dal monastero nel contesto politico e religioso del suo tempo come per penetrare ed intendere la complessa realtà umana che anche per questo trovò in esso espressione e spazio non vi è deformazione maggiore di una lettura univoca e unimotivazionale dei grandi fenomeni sociali e tale indubbiamente soprattutto fra decimo e dodicesimo secolo fu l'universo monastico un universo che fin dal suo reclutamento tutto o prevalentemente di giovanissimi le vocazioni adulte per la gran parte di questo periodo sembrano come si è detto l'eccezione quantomeno per i quadri monastici di origine nobiliare si pone in termini di percorsi esistenziali separati quasi a costituire una realtà che pretende in qualche modo di restare chiusa e impermeabile alla memoria e alle esperienze consuete degli uomini comuni la giustificazione della sua vocazione è in termini di scelta di perfezione che sa e vuole misurare con piena consapevolezza tutto l'abisso che lo separa dal resto dell'umanità è la fondazione di un'elite cosciente di sé che ritiene di svolgere un compito decisivo e insostituibile per il destino ultraterreno di tutti e che per questo non può non rivendicare in costante tensione con la prospettiva originaria di fuga e di abbandono del mondo una posizione di preminenza di giudizio di orientamento se non di direzione sul proprio stesso presente storico ma l'universo monastico non è formato soltanto da uomini che per la loro scelta per il loro percorso per la loro stessa memoria individuale si caratterizzano in termini di diversità e di opposizione rispetto al mondo che li circonda perché tale diversità e opposizione si traducono e si esprimono in una quotidianità di azioni atti e ritmi sottratti ai tempi e alla misura comuni danno vita ad uno stile come a gesti atteggiamenti gusti e sensazioni che si qualificano come un insieme compatto e coerente offerto alla venerazione e alla contemplazione ammirata degli altri ma non suscettibile almeno nel suo dover essere di comunicazione e di interscambio reali con la società circostante la scomposizione di tali elementi l'individuazione degli equilibri spesso attormentati e difficili che li compaginano offrono un'ulteriore strada per penetrare più profondamente tale realtà per coglierne i processi di crescita e di evoluzione come le radici delle sue crisi e le ragioni del suo lento ma irresistibile ridimensionamento per cercare di meglio avvicinare insomma quello che con espressione non del tutto felice è stato definito storicamente il mistero monastico se con mistero non si intende evidenziare i limiti di conoscenza e di giudizio contro i quali lo studioso di storia cozza inevitabilmente nel suo lavoro e di giudizio e di giudizio